A parte quel drammaturgo arrogante, non vedo molti ospiti distinti qui. Posso aiutarti in qualche modo? Sono qui per il tuo vino dolce. Sì, prendilo ed esci dalla mia cucina, ho da fare. Come sta, Euripide? Sbronzo, spero. Prendo il vino. Meraviglioso! Ora, se vuoi un consiglio d'amico, Aristofane non regge il vino dolce. Ho visto l'effetto che gli fa assolutamente, orribilmente delizioso. Non sarebbe una vera festa, senza qualcuno che dà di stomaco. Ti faccio sapere se il piano funziona. Vuoi un'altra imitazione? Il mio preferito è Sofocle! Quella non è divertente. Quando voglio rilassarmi provoco una rissa. Tu, d'altro canto... Presto! Portagli del vino, così dirà qualcosa di intelligente! Dopo la mia lite con Sofocle, credo sia meglio mantenere la mente lucida. Sono qui solo per cercare una persona. Eppure, ci hai dato l'impressione di essere qui per servirci del vino. Concentriamoci su quello prima, d'accordo? Sia a te che ad Aristofane farebbe bene un goccetto. Facciamo un gioco. Una sfida? Ah, ottima idea! Euripide sembra tranquillo, ma non rifiuta mai una sfida. Beh, se ci portassi un po' di vino, potrei mostrare a questo giovanotto come beviamo noi argivi. Rendiamo onore a Dioniso, che ne dite? Questa... questa è brodaglia! Dilettante! Ai miei tempi, questo era considerato nettere degli dèi. Un altro giro! Ancora un po'? Non riesco a bere questo piscio di maiale! Potrei battervi entrambi con una mano sola. Beviamo un altro po'. Sei pronto per un altro? Questo vino è terribile! Tu mi piaci! Chi ti porta qui? Mi sono portato da solo. Sono sulle tracce di una donna che lasciò Sparta molto tempo fa. Lasciò Sparta? Perché? Perse due bambini. Non aveva scelta. Fuggì per guarire il suo cuore spezzato. Euripide, scrivi un'opera su di lei. Ho sentito di madri spartane che si recavano a un santuario di Asclepio in Argolide. Conosco quella terra. È la mia casa. Dopo quello che ha passato, non credo che si fidasse dei sacerdoti. Allora cerca il mio amico Ippocrate. È un medico, il migliore dei migliori. Lavora ancora in Argolide. Se è andato da lui in cerca d'aiuto, senza dubbio l'ha ricevuto. Io adoro sbronzarmi e cantare. Torna se vorrai cantare insieme a me. Ci penserò. Ippocrate ad Arco. Arlino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.